Filippo Ascerto, onorevole Filippo Ascerto, Fratelli d'Italia, continua la sua salita verso il potere, in questi giorni anche Giorgia Meloni dice siamo pronti a governare e allora se siete pronti a governare Draghi lo volete Presidente della Repubblica o lo volete fino al 2023? No, noi lo vogliamo Presidente della Repubblica perché così finalmente si fa votare, qui forse non ci faranno più votare, cambiano gli schieramenti governativi, ci sono l'ultimo ammasso di partiti, non sono mica stati eletti dai cittadini questi Presidenti del Consiglio che abbiamo avuto, sia Conte che Draghi. Per questo noi rivendichiamo la scelta che deve essere del popolo, la scelta ai cittadini, quindi bisogna andare a votare. Ci dica su Padova, Pekin è il vostro candidato? Ideale? A Fratelli d'Italia nessuno ha detto niente, è un nome che viene fuori, non sappiamo noi di Fratelli d'Italia come, quando ci sarà un tavolo parleremo del nome, ma noi andiamo alla sostanza. Padova è una città che deve cambiare, deve cambiare sotto il profilo sociale, della sicurezza, dell'identità e deve cambiare anche il suo sistema. Faccio un esempio, la sinistra si è presentata ed è stato eletto Giordani sull'ospedale che doveva essere fatto sul Vecchio? Nuovo sul Vecchio Nuovo sul Vecchio, oppure a Padova Ovest, dove si fa l'ospedale? A Padova Est Bravo, dove il centrodestra aveva individuato. Allora, abbiamo le idee, abbiamo la consapevolezza di una città migliore, ci proponiamo. Come Fratelli d'Italia noi siamo convinti che siamo il primo partito e possiamo dire la nostra. Ma noi come centrodestra ci proponiamo per cambiare la città.